Consigliando il momento in piena siccità, questa si può dire che è una raccolta eccezionale. Ci sono alcuni settembrini e alcuni statini, sono circa un chilo di funghi che abbiamo trovato a Fiumiciatolo, a Della Secchia e alla Pontina del Sestaione e Bruna. Belli e sani, chiaramente, cosa vuoi dire, anche qua che sono morti di sedia. Ce ne ho lasciati diversi piccolini che spero che piano piano magari riescano a crescere.